Nessuna preclusione al dialogo con la comunità di fedeli di San Ferdinando, anzi massima disponibilità ad organizzare un confronto su una questione che è fortemente sentita dall'intera cittadinanza. L'arcivescovo di Trani Barletta Piceglie, Giovan Battista Picchieri, non si nasconde davanti ai motivi che hanno portato alla fiaccolata del 12 luglio scorso, durante la quale centinaia di persone sono scise in strada per protestare contro il trasferimento del sacerdote Cosimo Falconetti dalla parrocchia Sacro Cuore di San Ferdinando alla parrocchia Santissima Trinità di Barletta. Una scelta della dioce sia assolutamente irragionevole secondo i fedeli che in dieci anni hanno visto la loro parrocchia crescere e divenire grazie a Don Falconetti un riferimento spirituale fondamentale e imprescindibile. Monsignor Picchieri, che ha già incontrato il sindaco Michele Lamacchia, ha mostrato piena disponibilità ad un confronto anche con i fedeli sanferdinandesi. L'occasione potrebbe essere fornita dall'appuntamento tra il vescovo e il consiglio pastorale parrocchiale fissato per il prossimo 30 luglio. Una delegazione del comitato spontaneo, che ha dato vita alla fiaccolata di una settimana fa, potrà finalmente intervenire e chiedere le motivazioni di un trasferimento che penalizzerebbe pesantemente la loro comunità e interromperebbe tutti i progetti già avviati grazie a Don Falconetti e che con la sua assenza non arriverebbero mai a compimento. 3.000 le firme raccolte dal comitato spontaneo, nato in difesa della permanenza in città di Don Falconetti e i suoi sottoscrittori fanno già sapere che la protesta è solo all'inizio e che nei prossimi giorni andrà sicuramente avanti.